un saluto a tutti ragazzi da messi 91 siamo su apex legend con una partita in modalità conquista sulla mappa di caustic vediamo se questa è la volta buona e riusciamo a fare qualcosa di produttivo abbiamo una valchiria che in questa mappa funziona alla grande noi prenderemo la signorina mad maggie eccola qua guarda che fiera ha bloccato pure la skin del prime guarda che bello tutti in rosa ci sta ci sta le dona rosa mad maggie un sacco comunque questa è l'ultima mappa che hanno inserito per la modalità controllo è nuova e non ci so tanto giocare perché purtroppo è una mappa dove la gente campera tanto e io non sono in grado di stare ferma purtroppo mi bolle il sangue se mi fermo e ho notato che a noi già manca un giocatore quindi partiamo con un grandissimo vantaggio siamo in otto contro nove fantastico allora c'è la wingman con un bellissimo avoc diciamo che lo proviamo e vediamo un pochino devo allenarmi con la wingman ma tutte le volte che la raccolgo da terra per usarla allenarmi finisce che poi la tengo in tasca per tutta la partita il mio problema con la wingman è quello non mi sento in grado di usare quella pistola purtroppo ma c'è un sacco di gente che la usa e sono anche efficaci io no troppo io no allora eccoci qua conquistiamoci tutti quanti quanti dov'è valkyria ho sentito valkyria stiamo vicino a valkyria che magari poi vola e facciamo cose produttive vai valkyria vola non vola corre eh va bene ah ecco adesso ci ha messo solo un pochino vai sua vai sua valkyria vai sua c'è un tizio è appena spawnato l'ho visto eccolo lì aspetta che lo intercetto c'è un tizio ignaro come è possibile scusi lei salve come è possibile che non ci ha sentito perché mi direi arriviamo dal cielo arrivavamo vabbè abbiamo conquistato a tiè vado corro ho lanciato male la ultra fa niente una spintarella ce la dà vai corriamo subito eccomi eccomi il sedere pesanto io sono arrivata eccomi mi lancio a conquistare tiè quanta roba sarà mia sarà nemica boh io la rompo non so nemmeno se ce l'ho io un caustic sinceramente non ci ho fatto caso vado stiamo correndo avanti indietro senza trovare troppa gente ah ecco li vedi tutti in fila su quella zipline quindi saranno tutti qui potenzialmente ah forse di sera lo sparo si è storta non ho preso la porta eh io sparerei anche con la wingman ma non vedo nessuno 3 ore che corro avanti indietro non vedo nessuno questa mappa è così è inutile la gente si ferma fuori a camperare io non so cosa dirvi e niente sopravvissuto bravissimo c'è roba di qua ti proteggo io ci provo perlomeno ehi difendeteci difendeteci mi sto sparando storto oggi porca miseria andate sto annoiando su b cioè tutti stanno fuori a camperare andrò su a dai vai facciamo qualcosa di produttivo ma questi sono ciechi non è possibile se lo lasciavo fuori magari neanche mi vedeva guarda un po' vieni qua fiuto eh no quanti sono porca miseria ci sono morti morti per sempre infatti I look like bloody hell va bene aspetta va rispondiamo qui a difendere dov'è eccola una bangalors preva oh grazie gentile che mi dà le armi viola guarda che brava grazie bangalors riconquistiamo però vedete che come ho cercato di conquistare una zona c'erano 29 persone che non si sa bene come quando e perché erano già lì a difendere ogni volta che voglio attaccare un punto c'è sempre pieno di gente che mi devasta fortissimo c'è sta mappa è così uh crabber eh lo so wingman ma la crabber va raccolta cioè quando la vedi non la puoi lasciare lì la di raccogliere per forza per legge c'è uno ignaro della mia presenza edcho lo abbiamo crabberato fuori dall'esistenza guardalo poverino ah credevo fosse un altro headshot peccato ero convinta non puoi fare così va la ecco bombe c'è un altro aspetta 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 boom e niente no headshot si headshot yahoo è la stessa bangalors di prima povera mi dispiace un po' mi sento un peletto in colpa adesso però dai è la vita ogni tanto vinci ogni tanto vieni crabberato da qualcuno ehi ehi ma ziplinano qui chiudi la porta e spara a fuoco e scappa via soprattutto che mi stanno facendo malissimo adesso noi aggiriamo tatticamente ci mettiamo qua in fondo e spacchiamo la faccia R3O1 carabina ok e adesso facciamo come fanno tutti ci piazziamo qui e spariamo che dobbiamo fare ehh abbiamo una decina di colpi li buttiamo via tutti presa e lisciata niente 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 ho perso il mio tocco ragazzi è fatta ehh forse no forse no però adesso mi hanno visto mi verranno a prendere no non gliene frega niente di me assolutamente niente chi è caustic com'è che non lo sto colpendo scusami era lì forse è morto no no è ancora lì che spara guardalo com'è che non lo sto colpendo ma chi lo sa quella bungalore poverina non ha una vita facile con me addio bungalore headshot ahahah povera ho ancora un proiettile vediamo di farlo fruttare poi buttiamo via l'arma vediamo un po' c'è uno la fatta ahahahahah eccitando il mio personaggio preferito di overwatch one shot one kill boh possiamo buttarmi al krabber non ci serve più ragazzi ahahahahah quanti headshot abbiamo fatto oggi buono posso buttare questo krabber essendo molto soddisfatta dei risultati che ne ho avuto perfetto ora torniamo a fare qualcosa di produttivo però perchè qua stiamo perdendo tempo vabbè che abbiamo conquistato no non è vero ci stanno prendendo il b però qualcuno sta difendendo vabbè vai si non sto tanto contribuendo diciamo così alla cattura e alla difesa degli obiettivi mi sono lasciato un po' prendere la mano ma per giocare sta mappa c'è da fare così è inutile cioè ti devi mettere lì e camperare è inutile camperano tutti qua fuori 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 difendiamo vabbè eccola lì muorici mi hanno rubato la kill fa niente riconquisto ecco qua non ci provo neanche ad andare a conquistare A ragazzi perchè probabilmente sono tutti la ma tutti cioè non c'è nessuno sugli altri punti devono essere per forza tutti la povera bungalore guarda lì che mette il fumo tattico e qualcuno scanna porella e vabbè ehi ehi quello lì quello lì è un caustico quello lì ed è eh eh no amico mio mi hanno rubato di nuovo un altro kill sto mox inizia rompermi le scapole è sempre lui male Ducato non si pregano le kill solo io posso c'è uno la ci seguo lo prendo lo uccido lo distruggaya Ho il visore termico, non me ne frega Ah, mi sparano Perché ho sparato terra? Non lo so Credevo di essere una bungalore E di buttare il fumo, ammetto C'è uno sulla zitta Eccolo Bravissimo, questa è proprio un'azione Ce ne sono altri, eccoli Vai Oh, via, ne arrivano troppi Ne arrivano troppi, scappa, scappa Proteggimi, fiuso Ok Andiamo a prendere Civa Ma c'è già gente su Civa, l'hanno già ripreso Ehi, ehi Una bungalore selvatica E quello è un caustico Ma si è fermato Si è arreso alla morte Ho detto, vabbè sai cosa, uccidili A me non interessa più Non voglio più vivere io, va bene Niente ragazzi Ridendo e scherzando Siamo 91 a 60 Abbiamo praticamente vinto Siamo morti una volta sola Guarda te, guarda Ehi, ehi Non voglio morire proprio adesso che ho detto che non sono mai morta Ok Cura, cura Ecco Aspetta Da qui, da qui Vieni qui Pathfinder Penso io Quello è morto E l'altro è scappato Non ho preso la cassa Scusami Che bella mira che ho Vabbè vado a inseguire quello che è scappato via di qua Eccolo Corro, corro Lo prendo L'ultima kill L'ultima kill Aspetta Eh Dai oh Porca miseria Guarda te Guarda Corri Maggie Corri Maggie Prendetelo Niente Si è salvato Il maledetto Però Siamo i campioni Della conquista GG a tutti Bravissimi Partita abbastanza stabile Vi dirò Non hanno catturato molto Anche io non ho contribuito tantissimo alle catture Però vabbè dai Ci siamo divertiti a fare i cecchini col cravere A rompere le scatole a tutti Ma in realtà ho catturato 5 obiettivi Quando li ho catturati ho 5 obiettivi Boh Comunque 15 uccisioni 3800 Quasi 4k di danno Wow Ok Ma tutto merito della Krabber Comunque Per il video di oggi è tutto Ragazzi Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento Un like E di iscrivervi al canale Se non lo avete già fatto Vi auguro una buona giornata Un saluto a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.